Un infarto all'ora di pranzo ha tolto la vita un giovane papà di 37 anni, Luca Polvara. I sanitari chiamati dalla compagna Fabiola hanno tentato per 70 minuti la rianimazione. Il 37enne è stato poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove purtroppo è deceduto. I suoi organi sono stati espiantati. Grazie a tutti.